Ci avete invitato a fare del bene, è sempre la cosa più bella che esiste. 6.000 euro, questo è il ricavato della vendita dei calendari realizzati da Teleclub Italia, The Club Factory a Natale, che ieri è stato consegnato alla parrocchia di San Pio X per la Caritas. L'importo è stato ottenuto grazie al contributo che in tanti hanno donato per avere il calendario allo scopo di devolvere il tutto in beneficenza. I 6.000 euro saranno utilizzati dalla Caritas per offrire quotidianamente pasti caldi a chi ne ha bisogno. Grazie a questo contributo noi siamo tranquilli, riusciamo a fare bene la Caritas. Siamo contenti perché abbiamo raddoppiato la cifra rispetto all'anno scorso, sono 6.000 euro. È un'iniziativa che cercheremo di rendere stabile, cioè di fare ogni anno. Siamo felici perché portiamo nelle case di tante persone il bello perché il calendario è bellissimo grazie ai fotografi che ha selezionato Andrea Matacena e soprattutto anche il buono perché ognuno comprando il calendario ha dato la sua piccola parte, cioè 6.000 calendari. Diviso 10 euro sono state 600 persone che ci hanno onorato di contribuire a questa iniziativa. Il calendario ha racchiuso gli scatti più belli di 12 fotografi della campagna che così grazie a una loro foto sono riusciti anche a fare del bene. Abbiamo raddoppiato quest'anno quindi questa è stata una super notizia, infatti sono molto contento con l'ausilio anche di altri 11 fotografi che sicuramente ci hanno dato una grossa mano nella vendita. Sono contento che questa iniziativa si ripete ogni anno e speriamo duri per tanto tempo.